Una vacanza o un viaggio di lavoro sono sempre un po' delle esperienze, ma se le vivi abitando in una casa sicuramente lo sono un po' di più. La casa non è una stanza d'hotel dove passi solamente la notte e ci dormi. Al centro della casa c'è la living room, c'è il salotto, come dicono gli inglesi, è un posto dove si vive. Pensate di essere un po' i padroni di casa lontano da casa vostra, magari anche in un paese diverso, a mille miglia di distanza dal vostro mondo. È un'esperienza molto forte, intensa, le case non si dimenticano mai. Quando tornate da una vacanza e siete stati in una casa, quella vi accompagnerà, quel ricordo diventerà forse anche uno dei ricordi più importanti di quel viaggio. Da quest'anno abbiamo inaugurato un progetto, il Guest Experience Project, che per noi è il progetto più importante, proprio per riflettere su queste esperienze, per valorizzarle e per fare in modo che i nostri clienti nel futuro possano vivere delle esperienze sempre più intense. Che cosa vogliono i clienti? Per dare una risposta a questa domanda bisogna conoscerli, sapere cosa fanno, cosa sognano e che cosa desiderano. Questa è la ricetta giusta per sorprendermi e farli felici. Non è un semplice data mining, è un vero e proprio porteggiamento. Con Hardisk Guest Experience vogliamo anticipare i bisogni dei clienti e personalizzare il loro soggiorno. Per questo motivo sono state selezionate le 5 persone con più esperienza nel sales. L'accoglienza è un valore antico. Con il nostro progetto vogliamo che sia anche moderno, perché al termine di ogni soggiorno saremo a noi raccontare l'esperienza vissuta dal cliente, sfruttando le nuove forme di storytelling. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.